Ciao a tutti! Dopo un sacco di tempo siamo di nuovo qua su YouTube, questo che vedete è il nostro nuovo studio barra punto vendita, negozio, chiamatelo come volete, non avrei mai pensato di aprire un punto vendita e invece l'ho fatto, l'ho fatto, abbiamo realizzato un sogno. Dove abbiamo aperto? Abbiamo aperto a Rosignano Solve, provincia di Livorno, il posto dove sono nato, dove vivo, siamo nella fantastica cornice del porto turistico Cala dei Medici, abbiamo cambiato diverse cose, abbiamo realizzato un sito nuovo www.paolodetrane.com, troverete il link in descrizione e abbiamo rafforzato la partnership che già avevamo con uno dei nostri fornitori più importanti, il nostro fornitore più importante, lo vedete qua sopra. Fotosì, fotosì, perché fotosì? Fotosì perché ci dà la possibilità di fornire ai nostri clienti servizi che cercavamo nel modo, nella maniera moderna che cercavamo. È un negozio interattivo dove potete venire a trovarci, facciamo le cose insieme, questi fantastici fotolibri che vedete qua per esempio, possiamo realizzarli insieme, voi portate le vostre foto e insieme a me, qui al computer che adesso vi farò vedere, possiamo realizzare in pochissimi minuti il vostro fotolibro con la vostra storia che racconta le vostre emozioni. Questo è il nostro scopo e quello che ci è piaciuto più di tutto è proprio questo, che fotosì vuole raccontare emozioni e noi lo stessi, quindi con i loro strumenti, la nostra creatività, la nostra passione abbiamo aperto Cala Pictures, è il nome del nostro negozio, del nostro studio. Bene, diciamo che questo è un riassunto molto corporate, diciamo così, forse in un formato un po' diverso da quello a cui siete abituati, se non lo avete ancora fatto e siete qui in zona, quindi provincia di Livorno, vi aspettiamo, veniteci a trovare, saremo felici di conoscervi e di proporvi qualcosa che non conoscete, qualcosa che vi sorprenderà. Grazie per la pazienza per tutti questi mesi che sono completamente spariti, ma grazie anche a tutti quelli che ci verranno a trovare, li tengo aggiornati, seguiteci sulla pagina Facebook Cala Pictures, metterò il link come al solito qui in descrizione, paolodetane.com è il nuovo sito ricco di nuovissimi contenuti, foto, video eccetera, che dire, ragazzi, ci vediamo presto, come al solito, ciao!